3, 2, 1 Perché capisco che dare da mangiare ai piccioni e ai gabbiani non sia propriamente corretto però è corretto lasciare questo in mezzo agli scogli tutto questo sì, se venite a Bellaria potete scaricare monnezza per amare però guai a dare da mangiare ai gabbiani se no muoiono non per questo, muoiono per il cibo e ho fatto solamente 7 metri di costa più o meno di scogli, quelli là in fondo senza contare tutte le robe incastrate che non sono riuscite a riar via perché erano proprio tra i macigni, proprio come se gli avessero buttati sopra macigni su macigni dopo aver sganciato la monnezza boh, vedemi voi se la coerenza è... cioè se sono io che sono incoerente o è il mondo ehi, passate su mio canale grazie a tutti grazie a tutti